E così cercavamo di dare la pennellata e tutti sarebbero solo innamorati. Un oggetto particolare che è a cavallo tra il design e lo paradale. Noi creiamo delle opere d'arte, perché sono delle vere e proprie interpretazioni, non sono replicabili. Lo fece in maniera egregia perché riuscì a implementare la tecnica antica dell'Arazzo e dell'Alto Liccio, trasformandola in una tecnica molto più moderna, sempre manuale, tant'è che si riuscirono a trasporre in Arazzo le opere all'epoca contemporanea, le opere dei grandi artisti del Novecento. Tanti, tanti artisti sono venuti anche qui e tanti personaggi sono venuti anche qui. Qui da noi sono passati tutti, pittori, designer, poeti, qui venne a fare delle serate di lettura ungaretti. Abbiamo fatto molti, a parte quelli delle navi, ma abbiamo fatto anche per il Senato, qui c'è il Narciso di Cagli. Poi abbiamo restaurato l'Arazzo del Bronzino per il Quirinale, due arazzi per il Vaticano, altre arazzi in giro per il mondo, per l'America. Noi riusciamo a fare le sfumature usando cinque fili di color diverso, di una ass diversa. Questo ci permette di avere colori limitati. Tanti mesi per metro quadrato. Normalmente un disegno facile sono le cinquecento ore, cinquecento, seicento al metro quadrato. Quando entro qui, parchi un portale e entro in un'altra dimensione. Questa è una casa d'arte. È proprio una casa d'arte. Questa è una casa d'arte. Grazie a tutti.